Sono Marco Bucci, sono sindaco di Genova e sono estremamente contento e soddisfatto che qui a Genova ci sia questo convegno internazionale che parla di foiling. Foiling è un grande aspetto tecnologico, importantissimo, è un nuovo modo di andare per mare e in questo momento si associa e integra un momento assolutamente importante per la nautica di Porto che sta crescendo molto bene, è il business che cresce di più in tutta Italia e l'Italia ha più del 50% di tutto il business mondiale, quindi noi siamo leaders da questo punto di vista e il foiling, grande novità tecnologica e grande integrazione tecnologica a tutti i mezzi che galleggiano chiamiamolo così, potrà dare sicuramente, e dà già, e potrà dare in futuro grandissimi sviluppi di business e grandissimi sviluppi di performance perché la performance è fondamentale in questi casi. Non dimentichiamo che il foiling può anche avere applicazioni che riguardano il trasporto pubblico locale soprattutto in città che sono circondate dal mare o sono integrate col mare perché ovviamente c'è un notevole risparmio di energia, di consumi e anche di tempi integrando il foiling nei sistemi che trasportano i passeggeri. Quindi c'è un brillante futuro davanti a noi, siamo assolutamente contenti che questo venga fatto qui a Genova che è una città che ha sempre vissuto sul mare, sia sempre integrata col mare il mare ha sempre dato una ricaduta economica e occupazionale alla città e continuerà a farlo anche grazie al foiling.